Probabilmente dividerò i video a porte che trovo. Porca boia! Olè! Si è aperto quello. E se facessi così? Così apro direttamente... nooo... Tom! Ma che bella non è sta versione! Col pianoforte. Oh! L'ho ammazzato prima io però eh! Forse non lo devo ammazzare. Olè! Arroco Giuda! Arroco Giuda! No! Ora li devo ammazzare! Premi B per accedere... ah che idiota! Ma io devo ammazzare quello là! Ah però però però! Stavo dimenticando di questo... Di questo potere! Qui non c'è nulla! Ok! Guarda come si fa ammazzare tutti questi idioti! Con calma! Con calma! Tutti con calma! Molta calma! Indirizzando sempre il colpo! E ce la fa! E ce la fa! L'hoof!